Ciao ragazze, ciao ragazzi, questo è... Scusate, mi siete scappati, mi scivola il cellulare, devo fermarlo con qualcosa perché... Niente, ho messo una cosina dietro al cellulare per cercare di farlo stare fermo, ma direi che vi vedrete così. Allora, questi sono i finiti del mese di settembre. Non sono tantissimi, ma ci sono dei profumi e quando finisco i profumi faccio festa. Allora, intanto partiamo con questo bagno doccia di Rosa Suprema della Mande. Vi ho recensito il profumo definendolo il dupe di Elegance. Buonissimo bagno schiuma, la stessa profumazione, pulita, fresca, elegante. Buonissimo, buonissimo. Questo qui lascia una buonissima profumazione nel bagno e leggermente sulla pelle. È molto, molto buono. Poi ho finito questa cremina per i piedi di Oma Gertrude. L'avevo presa dalla Cosmetica Bio. L'avevo pagata sulle 2,50 euro, 2,70 euro, non mi ricordo. Questa qui c'è scritto crema nutriente intensiva per i piedi, specifica per piedi secchi e screpolati, a base di estratto biologico di eucalipto e vitamina E. Però, non è così intensiva e nutriente. È una cremina che sa di mentolo, ma è una profumazione che svanisce praticamente subito, a contatto con i piedi svanisce. È una cremina idratante, molto, molto leggera. Se avete i piedi messi bene, bene. Ma se sono secchi, veramente secchi, non basta. Non basta. Non credo la ricomprerò questa qua. Poi, ho finito il mascara Lux di Avon. Mi è piaciuto, mi piace molto come formulazione. Infoltisce molto le ciglia. Mi è piaciuto, può darsi che in futuro lo riprendo. Ma io sono una a cui piace cambiare, quindi un futuro un po' più in là. Un bello scovolino, un bello pafutello. Ok, poi ho finito. Il profumo Lady Million. Buonissimo profumo. Un profumo veramente ottimo. Un buon stillage, non so come si dice, lascia la scia. Fiorito, persistente, buono. Un buon profumo. Questo qui lo ricomprerò più avanti. Ho finito anche i mari dell'Avon. Questo qui è un profumo, anche questo, io lo definisco fresco, stile colonia. A me ricorda molto il profumo di... E non l'Amanda, scusate. Adesso mi scappano i nomi. Comunque per me... Oh, mannaggia. Quando non mi ricordo i nomi, mi viene nervoso. Non voglio rifare il video. Memoria, vieni a me, Memoria. Marbert. Oh, grazie a Dio mi è venuto in mente. Ecco, per me questo qua è il dupe del profumo Marbert. E Marbert fa... Si trovano online perché non si riescono più a trovare nelle profumerie. Una volta si trovava da Limoni. Fa il profumo, il latte corpo, il bagno schiuma. Ecco, una profumazione che mi ricorda molto quella. Buono comunque. La tenuta discreta, ma non strabiliante. Ecco. Infatti è uno dei toilette. Lo ricomprerò? Boh, non lo so. Ho finito il Far Away dell'Avon. E' buono. Veramente buono. Dolce. Orientale. Speziato. Buono, buono, buono. Persistente. Caldo. Sì, forse questo lo riprenderò. Sempre più avanti. Magari... Per quando ci sono delle offerte. Ho finito il solvente per unghie e limoni. A me questo è piaciuto molto perché toglie molto bene lo smalto. E in più profuma. Non sa di acetone. Proprio acetone. Profuma. E sì, questo lo vado a ricomprare sicuramente perché... E' un acetone. E' un solvente con acetone questo qui. Però a me è piaciuto molto. Proprio perché non puzza di acetone. E toglie bene lo smalto. Poi ho finito lo struccante bifasico. Viso, occhi, labbra. Io lo usavo di pupa. Io lo usavo solo per struccare gli occhi. Buono. Mi è piaciuto. Non mi bruciano gli occhi. Trucco waterproof. Mascara waterproof. Si strofina un pochino di più. Però dà sempre un buonissimo risultato. Non escludo che un giorno lo prenderò. Poi ho usato questa bustina di Geomar. Sugar scrub drenante. Effetto antiacqua. A me non è piaciuto. Non è piaciuto. Io sono abituata con gli scrub. Veri scrub. Questo qui mi sembrava si sciogliesse sulla pelle. No. Meno male che fanno le bustine prova. No. Non lo ricompro. Questo non lo comprerai proprio. C'è un pacciugo in sto sacchetto. Un pacciugo. Ho finito il correttore. Mi sono insozzata tutta. Il correttore Avon. Questo qui. Avon True Color. Nella colorazione più chiara. La Fair. Cioè. Finito. Finito. Non credo che sia finito. Il problema è che si attacca alle pareti. E poi è un casino tirarlo fuori. Non è un tubetto. Io i tubetti li preferisco. Cioè. Perché poi. Se io piego tanto il coso. Rischio di romperlo. E lasciarlo dentro. Quindi. Cioè. Do caccio. Non so se lo riprendo. Perché comunque mi sembra di sprecarne un casino. E. In offerta. E 4 euro e 50. 4 euro e 95. Se non è in offerta. E 15 euro. Questo correttore. Poi ho finito. Questa crema di pulizia. Dello step 1 di Sensai. Che io uso l'olio. Mi è piaciuta anche questa. Una formulazione in crema. Ottima. Strucca benissimo. Impeccabile Sensai. Poi ho finito. Là giù in fondo c'è qualcosa. Sì. Ho finito. L'Hydra Change Essence. Di Sensai. Che è un'emulsione. Ma vedete. Ma è sporca. In fondo. Non riesco più a farne uscire. Praticamente. È un siero. Una lozione. Una lozione siero. Che si dà. Prima della crema abituale. Sì. Senza infame. Senza lode. Insomma. Ok. Con i miei finiti. Ho finito. E spero che vi siano piaciuti. Vi mando un grosso bacio. Vi auguro una buona giornata. Mille baci a voi. Ciao.